Secondo rigor, il nostro amico che è sparito, il nostro amico che è andato in Arabia Saudita e dopo 24 ore è sparito da tutti i media, ma neanche nei Gulag succedeva così, perché nei Gulag un tanto usciva un sol genizio che riusciva a far filtrare qualcosa, è sparito, come se fosse morto, come mai in 24 ore? Letta è morto in 24 ore, era il presidente del Consiglio, ditemi voi una ragione, te lo dico io, è sparito perché è andato in Arabia Saudita, probabilmente ha preso qualche accordo che non doveva prendere sull'energia e dato che ci sono adesso 60 società importantissime da metterci dentro, 300 manager pubblici, tra cui Eni, Ene, che sono quelle che comandano più di qualsiasi ministero, non andavano bene, si vede, a certi poteri occulti.